Buongiorno a tutti, salve a tutti, sono Antonella Poce, sono professore associato di pedagogia sperimentale presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università Roma 3 e coordino l'unità locale del progetto Erasmus Plus Open Virtual Mobility. Open Virtual Mobility è un progetto europeo che mira a sviluppare, individuare, sviluppare, potenziare le capacità di mobilità virtuale per gli educatori, per gli studenti, ma per chiunque possa fruire e sviluppare queste capacità. Sono capacità assolutamente necessarie nel panorama contemporaneo per poter essere cittadini attivi del contesto europeo. Il nostro progetto ha vari obiettivi, sicuramente migliorare il potenziamento della mobilità virtuale nell'istruzione superiore, sviluppare queste capacità, come dicevo prima, creare un hub europeo di apprendimento delle virtual mobility skills, perché vengano valutate, vengano riconosciute. Sviluppare un set di strumenti innovativi che consentano di facilitarne l'acquisizione in ogni caso. La mobilità virtuale porta dei vantaggi indiscussi. In ogni caso la mobilità è un valore aggiunto che l'Europa e tutti noi in Europa cerchiamo di sollecitare e sviluppare. È chiaro che la mobilità fisica comporta delle difficoltà, delle restrizioni, dei costi in termini ambientali, in termini economici e via dicendo. Quindi riuscire a potenziare e realizzare la mobilità virtuale è sicuramente un obiettivo di grande qualità che dobbiamo tutti cercare di perseguire. Vi invito pertanto a registrarvi sul nostro hub dove verranno sviluppate varie attività finalizzate allo sviluppo di queste capacità e vi aspetto tutti per il nostro progetto Open Virtual Mobility. Siate parte del progetto. A presto!